Gabriele Paletta, peccato perché l'Atalanta vista all'opera contro la Juventus è tutt'altro che dispiaciuta. Sì, sicuramente abbiamo provato a giocarcela dall'inizio, alla pari poi sicuramente abbiamo beccato quel gol che si poteva evitare e poi la partita si fa un po' più difficile. Un po' più difficile, però è piaciuto il carattere di quest'Atalanta nel secondo tempo? Avete anche messo in difficoltà i bianconeri? Sì, abbiamo dei giocatori forti, con carattere, sicuramente secondo me abbiamo fatto meglio del primo. Speriamo di, dalla domenica, ripartire da questo secondo tempo. Anche perché la vittoria del Frusinone sull'Udinese qualche problemuccio lo crea? Si è accorciata la classifica? Sì, la classifica si è accorciata, però come dicevo sicuramente anche i tuoi colleghi, dobbiamo pensare prima a fare noi le cose bene e poi gli altri non dobbiamo guardarli. Speriamo di ritrovare quella strada giusta che abbiamo avuto anche nel giro di Dandato. Grazie. 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 Grazie.